ragazzi oggi siamo in compagnia di niktor ok allora non so com'è possibile che l'enderman river a te doppio mettiti in acqua non esplode in acqua lo sapevi dimmi se non lo sapevo dai in acqua esplodono ma c'è però non rompono niente anche se sono vicini a una cosa ma io sono abituato alla pedro che non ricorda tutto quanto gli amanti soprattutto ma le agere credo sono ancora in cassa ma si l'abbiamo lasciati nella cassa prima di cominciare loro e poi noi dobbiamo prenderci loro e noi redstone red bull e l'as scudo delle cose più importanti adesso ora adesso riequivaggiamoci sì sì vai allora come funziona minecraft java edition ancora non lo sappiamo quindi non insultate perché dovrebbero insultare ok non so andiamo venire a cercare un po' di ferro ma stai da prima vai vai a cuocere un secondo il loro e noi matti che è dalla creato l'armatura e l'infinito ragazzi scusatemi ma era un avvertimento per il fan della modcraft numero uno aspetta c'era pure un altro creeper è ma si è esplosi tutte e due se non ti avrebbero ucciso secondo me poi non lo so però hai ragione sono molto forti i creeper però non era possibile hai sentito un'esplosione sono dal tonno no io non l'ho sentita cioè non so te ma qua ci sono delle ossa e del no è lo scheletro che abbiamo ucciso ragazzi però prima di cominciare la registrazione vai il goto no mi si è ripreso minecraft ragazzi abbiamo messo la modalità easy per la survival guarda non so forse potrebbe funzionare così non è questa è questa è la cosa vera aspetta la spazzatrice per saltare ragazzi il qf3 e succede un botto dai toys le cose sono inutili allora victor tocca a te vado in miniera tanto so come dovrei utilizzare le due mani ma giulia hai già creato una miniera per caso dove non la vedo aspetta qua sotto forse non è qua sotto 5 ma non diamanti le vene no perché ho passato alcune parti noiose che tu te ne andavi io però se no l'ho visto l'ho visto che ti pare che non vedo i tuoi video vediamo se c'è non c'è niente qua e vai avanti non c'è non c'è pollo dove sei vado a picchiare pollo vado a ammazzare il pollo e sai perchè abbiamo pure poco cibo no ammazzo il pollo no e fai a picconate non è non è morto ma come ma c'è un milione c'è un milione di mette e ho in due picconati in due picconate mi sono sbagliato aspetta l'hai preso il pollo? si l'ho preso apri il mentale no stai trovando la mia veniera no è la l'ho vista ah oh no è la ma guarda bene ma guarda è la uffa ai ai che scemo adesso guarda quanto è lunga non deve andare due aiuto mamma mia mamma mia ma come ha fatto anche l'orsi come si fa a shiftarsi? ammazzalo non sto qua fortissimo ma ammazzalo ma scendi ancora guarda si 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 è arrivato fino al 12 ah è il 12 ah è il 12 si adesso ammazzalo l'enderman si trovano i diamanti ammazzalo l'enderman tanto se moriamo sappiamo dove ritrovare la roba dove? si ma subito la dobbiamo ritrovare ahia ah ah oh 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 che ruolo oh si è il berberna cosa cosa ma quanto è duro sto è dai ma e non può non sai come si fa neanche io proviamo con tutti i tasti ma cosa ma non vuoi ma se non scrivi sulla chat aiuto vabbè io io vado avanti mi annoio eh eh no qua c'è perché c'è il carbone ops ho sbagliato tasto svonto tocle e le altre cose adesso no la fame volevo fare gas 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 oh posso fare una cosa un secondo Un secondo Ritorno all'indietro No, no, no No, voglio fare una cosa Cosa? Un secondo Ah, vuoi fare una cosa per salire più in fretta Perché non va? Ecco Un blocco di altezza di più Sì, così si può saltare liberamente Sì, ma così è... No, 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 sai perché? È perché è più utile sbattere contro Perché? Perché, allora No, perché poi nella bedrock fai molto più da che non erano Giavano Vabbè, però poi è inutile saltare Vabbè, ma salva Vabbè, è inutile sta Oh, carbone No, 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 no Ma prendi il carbone, sennò come fai a mangiare? Ti mangi le cose crude E qua dove hai trovato i diamanti? No Non me lo ricordo Sì, qui avevo trovato un pezzo solo No, spoiler Fattano spoiler Spoiler Ma ci vuoi? Spoiler Spoiler Questo video è sponsorizzato da spoiler In verità non è mai vero spoiler Ragazzi, ma questo video è spoiler Ma puoi smettere di dire spoiler Ma è tutto uno spoiler Ma mettila per favore Spoiler Vai per censurare Vai in una caverna E se la troviamo Vai Allora, guarda cosa facciamo Guardami Guardami Due più due fa quattro Ragione Facciamo girare i ricettini che ci abbiamo nell'inventario Posso scrivere una cosa? Cosa? Scavare No No Dai, sto crescendo Io metterei una torcia Non so te Ho buttato il piccolo Quello Come? Il baby back Cos'è? io ti consiglierei di fare una cosa non scavare dritto che scavare dritto porta sfortuna non so perché ma sono permessi ma non scavare solo così non aspetta fai che qua c'erano ma è veramente una sfiga se ci sono davanti infatti è successo questo è interessante allora ho trovato dell'oro no 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 fai finta che fossero diamanti che questo era un piccone in pietra si stacca perché è tutta la torcia mamma mia ancora redstone red bull potremmo trovare dei diamanti perché non abbiamo abbastanza no quattro più o meno allora vai beh io ti direi dico ahi non c'è chiama no no perché non vado a cercare adesso non puoi regenerarti la vita ma ricordiamocelo we're at the world be back vuoi mangiare su minecraft tutorial molto semplice non mangiare proprio non mangiare proprio dai mori se non mangi come fai a rigenerarti ragazzi a cercare io uscirei da questa galleria ma la fame andrebbe giù un FIN д you w FOI no guarda guarda wasm ragazzi ma lo sapete che io so come ritex utilizzare le cose o no non sister fai 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 è stato blonato da un creeper il vasetto di cacca è stato blonato bene adesso rigeneriamo si fa così non mangiare la redstone non mangiarti il piccone sto male ciao redstone non mi importa e perché non ti importa va bene abbiamo abbastanza di redstone io direi poi perché non andiamo sopra ragazzi si può ritornare indietro so che un bug della luce ma cambia colore a roccia ti mangio adesso troviamo del diamante dovremmo scendere ancora un po no no guarda le coordinate benissimo come si fa allora ragazzi aspettatevi faccio vedere mi chiamo chat e guardate l'altezza dei blocchi e questo bene 12 diciamo molto disinteressante disinteressante stai davanti alla redstone non la prendi perché non prendi il piccone in pietra così smetti di consumare quello in ferro sì ma così non riusciamo a prendere la redstone ma sì non riusciamo si può prendere col piccone in pietra si può fare ci siamo chiesti al ventaro ma perché non vai in poi nessuno io direi di andare a rompere qualche albero per farsi una barca per andare un po ragazzi a 100 mila like andiamo abbatto tutto abbatto tutta la casa e mi trasferisco la casa a mano che però userò qualche barca qualche vagonetto con cesta oppure viaggirò tramite perché non metti una torcia potrei viaggiare tramite questo in questo momento siamo sotto al mare altra vai in alto ma in alto la fulia la velota piano è una veste siamo in fondo al mare adesso troviamo la sabbia no sì ma sono molto in profondità perché credi poi bene che ne dici di ritornare no mi sto un po annoiando scavare io faccio io allora così lo lancio non buttarmi il piccone basta alexander albono prende un buone ti ammazza wow alexander albono e basta posso scavare oh mi stavo addormentando ora non mi volete far addormentare eh come lo scorso episodio non mi volete far andare via dalla caverna eh vedi come fai via dalla caverna per favore se troviamo il diamante tra poco abbiamo trovato un piccone rotto ma quanti piccoli hai vabbè posso da poco si rompe tanto hai rotto la torta abbiamo spento la lunga chi ha il cane ha staccato la spinella corrente se sentite la voce è il fratello di giuliano ma cosa? quando? qua in mezzo? qua in mezzo? io dico vabbè qua non ci sarà nulla oh so per fare la scorreggia? ahahah adesso ci facciamo un pezzo d'armatura cinque ohhh ehm otto ma se stai male ma se stai male in guagava perché non c'è male otto diamanti otto continua avete costretto ma avete costretto eh avete fatto bene non ci vantiamo che nel mio mondo abbiamo trovato i diamanti ohhh babà sosterò Edson ok un po ma sono per i livelli la sto spaccando anche i livelli mi servono si in effetti ci servono poi hai qualche stacca di di Edson credo che basti no? ma pure il Red Bull eh ma sta agita sta Red Bull una Formula One chi si deve aprire? boh 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 stiamo registrando ehm vero ohhh interessante molto interessante tante ti sei fatto? i piccoli diamanti abbiamo trovato otto diamanti uuuh in casa quanti ne avevi? cinque uuuh sete ha? uuuh quanti? uuuh quanti diamanti? uuuh 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 non serve a niente uuuh è utilissima uuuh si ma adesso non noi abbiamo dei spingenti non è meglio non fare per un uuuh e lì dai se non ci dov'è non farà si è rotto il piccone come come avevo previsto ma no 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 ma anche mi dovete far cambiare sempre piccone ma non mettere quello adesso puoi farti in casco in diamante puoi farti secondo me non farlo il casco in diamante ce l'hai già in ferro il diamante è meglio del ferro no si ragazzi commentate qual è il migliore caschetto ma io dico quello lì in ferro lo dico quello in nederite ne derite come on già 21 minuti siamo stati ragazzi tutti questi video saranno migliore no 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 ti prego no 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 non vado mai più a casa tanto sto scherzando però ci penso ma io io vorrei proporre di ritornare è fatto un piccone in diamante ah si è fatti un piccone in diamante lo dico ultimi 5 blocchi 4 piccone e ascia 3 2 1 1 e ti fai adesso no 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 diamante ma qua se ci sta in diamante non c'è in go come on ok possiamo andare eh posso andare io dai vado via no 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 un po' spostato il computer ingo c'era sgroppa mi stai prendendo un sacco di materiale eravate qua che avevate presi diamanti si qua ingo andiamo andiamo questo è il proprio ma io non ho sprintare troppo ragazzi nel prossimo video cosa ti è dita nel prossimo video giocheremo alla prima versione minecraft si alla prima guarda quanto stiamo camminando ragazzi non abbiamo detto mica che è l'ultimo no no non voglio se no ti stiamo parlando niente che fai siamo a circo che lato era l'uscita frank sinistra e frank sinistra eh frank sinistra qua abbiamo trovato un erderman l'abbiamo ucciso eh enderperlo enderperlo spero stavo registrando aspetta si stavi registrando scusa eh susa un secondo adesso potremmo teletrasforzare ci direttamente fuori No no l'etter steamer courtesy l'endero per usiamo pushscope malefici aspetta per le cose uno che non servono agnieri so donte Ma perché non metti in letto? Ora ragazzi, cosa mangiare? Non abbiamo quasi più cibo, ricordo In effetti non credo di mangiare, no, in verità si fa così Si preme due volte No, ho capito, ho capito, ho capito No, no, così si faccia la casa Vai! No, perché non va? È più distante Ma, ho un'idea, ho un'idea Come si faceva? Fammi farlo Non c'è quello, non c'è quello Aspetta, aspetta Fammi uscire No, io ho capito perché Fammi uscire un secondo Come si esce? Sono proprio in tempo Mi sono shiftato Ha smesso di più È sgrappa Come? In effetti non è sera, vedi, è il mattino Vabbè, può capitare Come si fa per aprire l'inventario? Come si fa per aprire l'inventario? Come si fa? Ecco Allora Apri l'inventario un secondo Apri l'inventario Apri l'inventario Ok Sgroppa Ma che non si riesce a mettere? No Ma c'era un passo, dai 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 Facciami Vedi non funziona Ah ecco E le torce E faccio così Poi Non ti svuoti un po' con l'inventario No Non voglio Non voglio svuotarmi Non era Ecco Ok vai 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 Così sei più veloce No perché mi sono shiftato E essendo shiftato si va più lento Guarda Ehi Che fai? Perché? No Ehi No nulla Lo so pulire lo schermo Eh si Guarda La pulisci però mi sta Aspettate se attiva questo perché era attivo Perché non riesco a andare in a ma... Perché devi togliere il... Scusami chi? Eri tu per caso Cosa? No Ho una striga Dove? Ho una striga malefica E la vado ad ammazzare Aspetta 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 Lascia Lascia Allora Allora Fatti una spada in diamante Da poco arriva la notte Ma che spada? Che lascia fa di più? Vero Giulie? Sì Fatti una ascia in diamante allora Quale cosa ha fatto la diamante? Perché l'ascio è molto più forte Si svela Ragazzi ricopriamo Tutto qua Ma Non si fa Dobbiamo fare talmente tante Non abbiamo capito com'è Ancora Non ci dobbiamo fare perché Metti da Da quel 19 C'hai 19 ancora? C'hai qui lo slot Aspettate Vai Fanno un poco Ancora due Fai Ecco Qui Altri sei Altri sei fornaci E ora Venti fornaci 22 Ragazzi Ragazzi Le costruiamo Una Aspetta Una Una parete Una parete di fornaci Ah una parete di fornaci Me ne occupo Ascidiamo Io sono No aspetta Aspetta Tranquillo No no Aspetta Aspetta Mangiamo Ragazzi Dai pub Lascia Andiamo anche pub Che so fare? Fa 6 Dal computer Fa tipo 10 Va bene Non fa niente Allora Facciamo Le legno Allora Aspetta 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 Facciamo questa parete qua? No Allora Guarda C'ho un'idea No C'ho un'idea No C'ho un'idea Ma Cosa Con In In Pietro Sì Pietro 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 No E ci metto Ecco Adesso posso Come si fanno a piazzare Mi sono dimenticato No Dimmi cosa potresti fare Vorrei fare Questa parete Di pietra Tata 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 Tolgo la troccia E la metto qua Tolgo la torcia E la metto qua Capito Perché qua ce n'è già una No Però non possiamo piazzare sulla cesta Se no non c'è perché Eh no Eh non piazzano sulla cesta Infatti Lasciamo Un secondo Un secondo Posso fare una cosa Come si fai a piazzare Che possante Allora No qua c'era Aspire saltare Ragazzi Vorresti già terminare qua Ah sì Trenta secondi Vabbè Sì è vero È trenta minuti Mi sono sbagliata Sì già Credo che dovremmo Smettere qua No Non credo Pretendo In senso Ho convinto che Sono Come si fa a piazzare Con due dita Con due dita Si sta pagando Grandioso Non lo so Eh vuol dire Ah no Uffa Esco No 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 Non si apre Non si apre Bene Faccio io Non si rompe con la fornace Dammi Dammi Visto che so Visto che Eh no Visto che so Che non Non si riempiranno Sì in effetti Ne mancano ancora Undici fornaci Quindi direi Di fare anche Questa parete In fronte Nino gamer Perché non piazza Uffa Nino gamer Nino gamer Non togliamo pure Quelle torte No che fai Non ho visto più Eh Nino gamer No 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 Non è questo Che potevo fare Vabbè 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 Quanto smetti Di registrare No cattelium Che sfiga Vai ma che sfiga Cosa vuoi bucata No Ehi Ah senta Ma sono stato No Calma ti voglio fare Un'uscita di emergenza Allora Che ci arrivate No Ma sono uscita Di Benevolenza Una misera La metterai direttamente In casa Però prima Bisognerebbe Farlo anche in grande Che mi dici Filosurzio Ah Non dai Non dai Ma èvenuto Così È stato Di cosa Mongermani Ad嗎 Dico Dopo Si va si fa prendo forse un po ieri troppo sei troppo aspetta già dimenticato ma perché non vai a ammazzare quei quei no sì però io ti dico di farlo con una bella spada ascia a sé se c'è uno scheletro vado no lo scalo che non c'è nessuno scheletro non lo sento fai vado andati a perché i godi i'm going i'm going ma perché l'hai buttato sulla sulla braccia che non si può c'è così che sembrava che si bruciva perché non è non si è buttato che stai facendo io ti dico di grande una doppia cesta ma non c'è legno che hai fatto l'oro immaginano tutta vola nel campfire sul campfire te l'ha cotto godo perché non te lo mangi no non c'è bisogno adesso che ora metti la fermiamo più spazio possibile io ti direi di mettere sia questo se te ce l'hai in arco no no ma non te l'ha dato l'ora no è vero due volte su cento te lo do ti stai ammazzando non si vede niente c'è un creeper ma rabbia c'è no dovevo mettermi lo scudo perché non pensi sulla spada ma che fai perché ti lasci ammazzare no scheletro muori muori c'è morto sei morto dovevo mettere beh così a fuochi non è che guarda c'è pure lo zombie a diventare uno zombie sottomarino vai arrestateci ho paura che adesso muori si 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 no non muori no no lo scheletro è priorissimo quello la dovevo mettere lo scudo guarda io ti dico di allontanarti eh no non ti molla non stanno arrivando aspetta dobbiamo mangiare non lo scheletro proteggiti non lo scudo lo scudo lo so lo so lo so ti devi shiftare lo so ma dove sta sto scheletro shiftati sta nell'acqua sta nell'acqua shiftati è morto sei morto ma è morto vedi te l'ho detto ah ti ho ucciso lo scheletro ma allora eh enderman ma allora lo scheletro di ma rabbia sta sempre in me dovevamo mettere pacifica perchè perchè non pacifica non pacifica eh si cos'è non c'è tutto pacifica perchè giustamente non c'è ventina si ma al momento perchè ma perchè dovevamo ripetere tutto attenzione c'è lo zombie sottomarino che ti sta attaccando guarda sono un prank di bella a schivare tutte le frecce oh e mai m'hai accisa ehmai m'hai scocciato scheletro ma vuoi smettere? mi sento messi i rumori esoterani mi stai scocciando nella maniera prendi prendilo all'azzo non ti sta neanche prendendo scudo tu fai quella cismente per tutta e io ti direi dico di ma da dove si sta tirando? sta tirando a lui ah io capisco perchè dell'acqua non funziona bene ah guarda colpito ma com'è possibile che non riesco a parare un colpo di uno scherzo posso fare? ci posso consigliare un modo? no c'è il coso c'è l'enderman l'enderman? è fortissimo non lo guardare in faccia ma perchè non non pare i colpi? perchè non pare i colpi? ah ditelo bene ora basta eh no quello ti ammazza fate un'ascendiamante e mo ci stiamo zitti e dai è protettivo scudo e niente sta ammazzato non basta pecora pecora? pecora è uguale alla vita pecora è uguale a letto è perchè vado a male è uguale al punto di spawn esatto pecora è uguale ti prendi pure dei punti ti prendi pure dei punti dalla tua dalla tua da te stesso quindi è utile un attacco perchè anzi li perdiamo forse ragazzi dovremmo confondere forse eh potremmo pure oh siamo a 40 minuti chi se lo guarda un video di 40 minuti e spero ragazzi che il video mi sia piaciuto ricordate di lasciare un bel pollicione su like spero il video vi sia piaciuto comunque iscriviti al canale perchè questo è lo speciale è lo speciale 60 iscritti con eh mi ha detto eh che ne dici di fare ti parlo di 60 minuti no 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 perchè 60 iscritti 60 iscritti 60 iscritti 60 iscritti 60 iscritti 60 iscritti uguale 60 minuti eh avremmo dovuto parlo 60 iscritti avremmo dovuto parlo sai quando al video di popular ship popular ship popular shipata ma sta ancora registrando c'è c'è una shipata c'è una shipata ragazzi per questo video possiamo concludere qui ciao ragazzi e iscrivetevi al canale no sto ancora continuando no ok ragazzi lo riesco a spegnere